Una buona serata, bentornati all'appuntamento con la seconda edizione di Weekend Sabato. Oggi facciamo un'apertura un po' diversa dal solito perché c'è preoccupazione al Cerignola in provincia di Poggia. Il forte vento di quest'ora sta causando un problema non rilevante tra un condominio ed una palestra. Infatti un albero a causa del forte vento si è leggermente inclinato in maniera molto pericolosa e le possibilità che questo albero possa in qualche maniera cadere è evidente per i dettagli e il servizio che abbiamo preparato.